E' iniziato oggi presso il Tribunale di Pescara il ramo principale del processo che riguarda la tragedia di Rigopiano. I magistrati dovranno accertare la responsabilità nella morte delle 29 persone che rimassero uccise nell'hotel a Farindola travolti da una valanga. Li erano rimasti in trappola dopo che, nonostante le segnalazioni, nessuno si era recato a liberare 9 km di strada sepolta dalla neve. Presenti anche i familiari delle vittime che per l'occasione hanno indossato le magliette su cui hanno stampato le fotografie dei propri cari scomparsi. Questo è un punto di partenza, è emersa parte, io penso che sia emersa una gran parte della verità, ma non tutta, ci manca ancora un pezzo. Un processo difficile che si prospetta anche molto lungo. Sono infatti 25 gli imputati, 24 persone fisiche e una società, tra cui l'ex prefetto di Pescara, l'ex presidente della provincia e il sindaco di Farindola. I reati ipotizzati vanno dall'omicidio alle lesioni colpose. Noi sin dall'inizio, proprio già all'indomani si può dire dell'accaduto, abbiamo ricevuto un mandato dal sindaco e dal tecnico comunale che ci chiedeva di indagare su tutto e di rendere disponibile a tutti ciò che avremmo trovato. Abbiamo fatto quello che potevamo, riteniamo e riteniamo che il caso dovesse essere gestito in nome dell'accertamento della verità. Oggi è una giornata molto importante, c'è voluto tempo, ma era tempo, era necessario affinché la procura riuscisse a capire quali potessero essere i responsabili per la morte di queste povere persone. Dietro questi imputati c'è lo Stato, nelle sue diramazioni dal comune di Farindola alla provincia di Pescara, alla regione Abruzzo, ai ministeri. Quindi non dimentichiamo mai questo. Il prossimo appuntamento è il 27 settembre, quando si costituiranno le parti civili. Il 16 ottobre invece ci sarà il processo bis per frode e depistaggio. Probabilmente ci vorranno anni per giungere alla fine di questa vicenda giudiziaria. I familiari delle vittime presenti in aula hanno gridato alla giustizia lumaca per un processo che inizia oggi a più di due anni e mezzo dalla tragedia. Abbiamo aspettato tanto, finalmente è giunto il momento. Siamo pronti, siamo carichi, abbiamo visto tutto, abbiamo passato notte insonne per poter trovare la verità. Adesso ci manca solo la giustizia, ma è delimitata, già solo sappiamo chi sono i responsabili.